Buongiorno e benvenuti da parte di Nick Barber. Spero abbiate apprezzato il nostro servizio sul Samsung Galaxy S4 della scorsa settimana. In occasione della presentazione abbiamo potuto vedere l'S4 da vicino. Il telefono ha uno schermo da 5 pollici e a seconda dei mercati un processore quad-core da 1,9 GHz o un octa-core da 1,6. Il display è un Super AMOLED con densità di 441 pixel per pollice. Abbiamo provato alcune delle sue funzionalità, compresi nuovi controlli gestuali. Il telefono sarà disponibile in 155 paesi dalla fine di aprile. Negli Stati Uniti arriverà nel corso del secondo trimestre. I prezzi non sono ancora noti. Il produttore di chip NVIDIA ha svelato le prossime due generazioni del suo Tegra, utilizzato in smartphone e tablet. La roadmap è stata delineata nel corso della GPU Technology Conference di San José. Il primo dei nuovi chip a nome in codice Logan e sarà il successore del Tegra 4, prossimo al lancio. Cuda permette alle applicazioni di liberarsi di alcuni compiti di elaborazione tipicamente gestiti dalla CPU nei processori grafici. Questo dovrebbe tradursi in un aumento delle prestazioni nelle applicazioni che fanno ampio uso di grafica, video o simulazioni. Logan dovrebbe entrare in produzione all'inizio del prossimo anno. Anche Papa Francesco sfrutta Twitter utilizzato per ringraziare i suoi oltre 2 milioni di follower. Cari amici, grazie di cuore, vi chiedo di continuare a pregare per me, ha scritto. È stato il primo messaggio Twitter del nuovo Papa, dopo che Benedetto XVI aveva lanciato l'account Pontificio lo scorso dicembre. L'utilizzo di nuove tecnologie e di social media è relativamente recente per la Chiesa. Nel 2010 Benedetto XVI aveva chiesto ai preti di tutto il mondo di ricorrere alle reti sociali per andare online, incoraggiandoli a utilizzare blog, siti web, video e immagini per comunicare con i fedeli. Negli ultimi 12 mesi l'indice di gradimento del CEO di Apple è calato notevolmente. Tim Cook è infatti sceso al diciottesimo posto nella classifica annuale dei dirigenti americani. Cook ha ricevuto un gradimento medio del 93% dagli oltre 640 dipendenti Apple attivi su Glassdoor, un sito che si occupa di lavoro e carriere. Cook si trova dietro molti altri CEO del settore IT, come Mark Zuckerberg di Facebook, primo, Joe Tucci di IMC, settimo, Larry Page di Google, undicesimo e Jeff Bezos di Amazon, sedicesimo. Il declino di 4 punti percentuali di Cook può essere attribuito a numerosi fattori, tra cui l'andamento delle azioni di Apple, crollate del 36% dallo scorso settembre, o i commenti su internet che parlano di una Samsung innovatrice di Apple. Il BlackBerry Z10 debutta oggi negli Stati Uniti, ma non è ancora chiaro quanto successo potrà avere. AT&T lo ha messo in vendita per 200 dollari con un contratto biennale e Verizon Wireless farà lo stesso la settimana prossima. Malgrado BlackBerry abbia annunciato sette giorni fa di avere venduto un milione di pezzi a un partner non meglio specificato, un analista di Gartner ha predetto che nel 2016 BlackBerry non raggiungerà il 5% del mercato mondiale. Google ha creato un'app per gestire post-it virtuali chiamata Google Keep. L'azienda la definisce come un posto dove appuntarsi facilmente le idee, che possono essere organizzate in liste e comprendere checkbox per indicare il completamento dell'azione. Keep, già disponibile su Google Play, le memorizza su tutti i dispositivi utilizzati. È tutto per questa settimana, grazie per aver visto World Tech Update. Per scoprire di cosa parleremo nei prossimi appuntamenti seguiteci su Facebook e Twitter. Salutandovi vi lasciamo con alcune immagini dall'evento di presentazione del Galaxy S4. Da Nick Barber e da tutti noi dell'IDG News Service un ringraziamento per aver seguito il nostro programma. Ci vediamo la settimana prossima.